Fuochi, accessi, nanare. Vabbè, comunque lo sa che siamo qui, no? Sì, sì. Se fai il filmato di avvenire, di solito durano un monte di tempo. No, ma poi dopo smetto. Sto facendo il filmato, ma proprio pochi minuti. A bocce durano anche mezz'ora. No, no, non faccio il filmato di mezz'ora. Faccio di due minuti. Poi dipende dagli anni. No, no, lo faccio di due minuti. Qui siamo a Magna Aurora, a Cessina Mare. No, no, non faccio di due minuti. Grazie a tutti.